Siamo in presenza di uno scenario ancora complesso, direi ancora delicato, ancora ricco di insidie. Ecco però si intravedono alcune opportunità, le opportunità legate ai mercati internazionali, alle grandi potenzialità del made in Italy di qualità, alle grandi potenzialità del turismo e vorrei aggiungere anche di quella che è l'economia digitale. Un bilancio che presenta luci ed ombre, appare così l'istantanea del tessuto economico della provincia di Arezzo. La nostra provincia registra una situazione nel 2017 molto polarizzata, come noi diciamo a vitalità differenziata, cioè quelle imprese strutturate con produzioni tipiche del made in Italy, dalla meccanica di precisione, alla moda, all'artigianato di qualità, all'agroalimentare di qualità, che presidiano i mercati internazionali, hanno delle performance molto interessanti. Noi chiudiamo il 2017 con una progressione del più 16%, escluso l'oreficeria e i metalli preziosi, che come sappiamo sono molto condizionati dall'andamento del prezzo dell'oro. più 16% che fa della nostra provincia la prima provincia in Italia per intensità di export in rapporto alla popolazione. Se guardiamo però a quelle imprese che operano sul mercato domestico, sul mercato italiano, registriamo una situazione molto statica, molto rallentata. Un lieve calo in provincia di Arezzo è stato registrato per quanto riguarda il tasso di disoccupazione. Il 10,2% dello scorso anno sta calando sotto il 9%. Però anche qui dobbiamo guardare un po' più a fondo i dati. E i dati ci dicono che la maggior parte dei contratti che vengono fatti in provincia di Arezzo, oltre l'80% dei nuovi contratti fatti in provincia di Arezzo, sono relativi a forme flessibili.